Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel e in un nuovo episodio di Saranno Famosi! E dopo un bel po' di tempo siamo tornati con i nostri Valentina e Giovanni E' passato davvero tanto tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato con loro e devo dire che mi sono parecchio mancati Quindi non vedevo l'ora di ricominciare Dunque oggi Giovanni deve andare al lavoro alle 10, perfetto e penso proprio che riceverà anche una bella promozione Lui attualmente sta al livello 4 di influencer di stili Oh e qui c'è Queen, cosa ci chiede? Forse vuole qualcosina da mangiare Diamo un pezzettino di cibo Mentre la nostra caravale oggi ha in programma un'audizione Oggi alle 19 per fare il programma dei Urz E le serve il livello 3 di comicità Se non sbaglio dovrebbe avere il livello 2 Quindi metà barra del 2 ci manca poco per raggiungere il livello 3 Non credo che avrà problemi a superare anche questa audizione Se si darà da fare Oh intanto la piccola Queen vuole un po' di cibo di qualità Perché vi ricordo ragazzi che qui è un po' così schizzinosetta È un po' vizziatella come gattina Giovanni vuole seriamente mettersi di impegno per cercare di guadagnare questa benedetta seconda stellina di fama Perché lui vuole diventare una celebrità a due stelle per completare questa pietra migliare Però devo dire che sale in fama davvero molto lentamente Molto più lentamente di Valentina ad esempio Quindi ci vuole davvero notevole impegno Per cui dopo che sarà tornato dal lavoro Lo è passato tranquillamente attraverso la tenda va bene Dopo che sarà tornato dal lavoro Magari gli facciamo fare un po' di video Magari anche con il drone Che dovrebbe averlo qua nell'inventario Se non ricordo male Sì andiamo un po' in giro per il quartiere a fare qualche video Magari troviamo qualcosa di carino Da mandare online Che potrebbe diventare virale Chissà Oh intanto Vale si sta complimentando con Giovanni Che oggi molto probabilmente riceverà la promozione Però cara Vale È tempo di aumentare la tua abilità Intanto io direi di accendere qui Perché di mettere sul più freddo Perché fa caldissimo ragazzi Siamo effettivamente in estate È parzialmente nuvoloso Ma la temperatura è rovente Quindi accendiamo un po' di aria condizionata E Vale si metterà quindi a guardare il canale comico Perfetto E Giovanni direi che sta a posto Vediamo un po' Sì magari lo mandiamo un attimo al bagno A fare le ultime cosette Per prepararsi prima di andare al lavoro Direi anche di ripulire qui la lettierina di Queen E magari Sì chiamiamola per mangiare Va così almeno non rischiamo che vada a male il cibo Poi Altra cosa che vorrei fare oggi O meglio che vorrebbe fare La nostra cara Vale È andare un po' in giro A caccia di qualche celebrità Vediamo un secondo Se c'è qualche evento in programma Oggi no Oggi non c'è niente in programma Per domani Eh domani c'è la vetrina dei talenti Però va bene Magari Questa sera potremmo andare In uno dei bar più in Del Sol Valley A vedere se compare qualcuno di famoso Perché La nostra Vale Vuole raggiungere il successo E vuole farlo in meno tempo possibile Lei attualmente sta solo a due stelline di celebrità Quindi vorrebbe diventare almeno una celebrità a tre stelle E ha pensato ad un modo per poter farciò La nostra cara Vale Diciamo che Vuole tirare fuori L'artiglieria pesante E vorrebbe cercare di Rimorchiare proprio Un qualche personaggio famoso Perché Così pensa che Da questa relazione Potrà trarne un certo vantaggio Perché avrebbe Magari degli agganci Per fare Dei film Delle serie Un po' più Famose No? Che potrebbero colpire Il grande pubblico Ebbene sì ragazzi La nostra Vale Ha deciso di Essere pronta a tutto Pur di diventare famosa Quindi vedremo che cosa riuscirà Soprattutto se riuscirà ad avvicinare Una qualche celebrità Molto più famosa Di lei Che non è una cosa facile Intanto qua Ci chiedono Sì sì Vai al lavoro oggi Oh guardate Che carina Io l'adoro questa gattina L'adoro È bellissima E sta giocando con tutto Il cosino sbrigliucicoso Va bene Ok dai Vale Quanto ti manca qui? Poco poco Perfetto Ce l'abbiamo quasi fatta Livello 3 Di comicità Raggiunto Ottimo Adesso A questo punto Forse potremmo andare Già ora In realtà A caccia Di celebrità Visto che comunque L'audizione Vale ce l'ha Le 19 Abbiamo tempo Sufficiente Per cui direi Cara Vale Vieni qua Che ti prepari Ti metti un bel vestitino Ti trucchi un po' Insomma si mette un po' In tiro E vediamo un po' Se riusciamo ad attirare L'attenzione Di qualche pezzo grosso Allora fa caldo E rovente la temperatura Non so però Se al del sol valley La temperatura è uguale o no Mettiamoci Dai questo qua Che c'ha la gonnellina Un po' Più elegantino Come outfit E poi direi Che ci trucchiamo Ci diamo Una bella sistemata E applichiamo Un bel trucco Vediamo un po' Con questo colore Così senape Beh forse Potrebbe starci bene Anche un marrone Labbra coralline E marrone grigio Di ombretto Vediamo Sì proviamo questo Dai vediamo un po' Come sta Ok sta facendo anche La manicure Giustamente Uh Che è successo Stiamo lavorando Sulla nostra relazione Quindi grazie Di averci aiutata Ad affrontarla Ah sì ragazzi Questo Mi ero dimenticata Di dirvelo Praticamente Giovanni Sta cercando Un po' Di far Ragionare Vale Nei confronti Del fidanzato Che per ora È segreto Di Giovanni Ovvero James Quindi James e Giovanni Attualmente stanno insieme Però Giovanni Non l'ho ancora detto A Valentina Perché visto che lei Ha un rapporto Praticamente di odio Nei confronti di James Ha paura Ha paura Della sua reazione E di conseguenza Adesso Stanno uscendo In segreto Però Nel frattempo Giovanni Si sta cercando Un po' Di lavorare Vale In tal senso Sta cercando Di far recuperare Un po' La relazione Tra loro due In modo che Spera Che se migliori Alla fine Lui può Rivelare Che sta uscendo Con James Ma chissà Se ci riuscirà Intanto Pare che un pochino La situazione È migliorata Ma insomma Sempre La barra è rossa Per cui ci vorrà un po' Qui intanto Che cosa ci dicono Editoriale Indipendente A Giovanni Aggiunta voce Che ha la possibilità Di inviare Un solo articolo Alla più prestigiosa Rivista Di recensioni Culturali Per dare sblancio La propria visibilità Ma cosa scrivere? Rivelazione spietata O un pezzo di colore? Io mi butterai Su un pezzo di colore Vediamo un po' Che cosa esce fuori Giovanni Sceglie di non correre rischi E prepara un accattivante Pezzo a chiappa click Che migliora Il suo rendimento lavorativo Grazie all'incremento Dell'affluenza dei lettori Ma che gli stilla Una sensazione di vergogna Ora le sue convinzioni Valgono meno Della svendita Di un emporio Ma no Però dai Abbiamo aumentato Il nostro rendimento Quindi secondo me È stata una giusta mossa Intanto La nostra vale È pronta Guardate quanto è carina E andiamo Magari la mando Al volo Al bagno E poi Forza ragazzi La caccia alle celebrità Per rimorchiare Appena avuto inizio E vale È voluta venire qui Alle orchidee A gogo Nella speranza Che si palesi Qualcuno Di influente Per il momento Non c'è anima Viva Se non qua I mixologi Va bene Allora direi Che nell'attesa Che spunti fuori Qualcuno Ci possiamo prendere Anche qualcosa Da bere Perché no Ordiniamo una bevanda Ordina una bevanda preferita Dai vediamo un po' Che cosa sceglie E aspettiamo Aspettiamo La bevanda preferita di Vale È un buio e tempestoso Ok Buono a sapersi Qui intanto Niente Gente famosa All'orizzonte Ancora Oh ragazzi È spuntato Thorne Bailey Lui che ha una celebrità Vera e propria Quattro stelle E direi Che potrebbe Andar benissimo Per Vale Perché lui Sì Che è famoso Infatti Sta correndo qui Ah lei si è messa In super short Per far vedere Un po' La mercanzia E vediamo Un po' Se riusciamo Ecco Direi che stiamo andando Male già dall'inizio Perché appena Ci ha visto Thorne È scappata a gambe levate Ma la nostra Vale Non demorde Anche se Sappiamo tutti Compresa Valentina Che Thorne È sposato Però Poco le importa Lei Importa soltanto Accalappiarselo Per cercare Di Avere Agganci Famosi Quindi Non gli interessa Se la sua relazione Sarà Anche Una relazione Tipo Amante No Non gli interessa Per niente Perché Lei vuole Assolutamente Raggiungere La fama Però Vediamo un po' Se riusciamo Almeno a chiedergli Un autografo Perché Se no La vedo Veramente Difficile Come cosa Cioè Proprio Ci ha ignorato Bellamente Vediamo un po' Almeno un autografo Ce lo concede Che prima Gli diamo Un autografo Poi magari Gli chiediamo Una foto Poi un abbraccio Già Già Se riusciamo Ad abbracciarlo Finalmente Potremmo Trentare Un primo Approccio Ok Mi sa Che ci ha Concesso L'autografo Perfetto Ottimo Ottimo Dobbiamo Fingerci Di essere Tutte Super Eccitate Chiediamo Anche un selfie Che poi Magari Può pubblicare Anche Sul suo Instagram Vale Per avere Più follower Senti ma Anche un selfie Che ne dice Sì Ragazzi Ci sta Il nostro Thorn Ci concede Un selfie E direi Di fare Una foto A questo selfie To Ma guardate Che bel selfie E siamo Tornati fuori A parlare Vediamo un po' Se riusciamo Ad abbracciarlo Vediamo che cosa Ci dice Intanto però Stiamo Intraprendendo Una conversazione Il che Non è poco E maledizione Maledizione Ci ha rifiutato No Guardatela Com'è triste Abbraccio Rifiutato Sarebbe bastato Un abbraccio Solo un semplice Abbraccio Ma niente da fare Ma guarda Che sei proprio Un maledetto Eh Allora Dobbiamo cercare Di Di colpirlo In un altro Modo Intanto però Vedo Chiediamoli Degli interessi Così aumentiamo Anche la nostra Di fama Quindi prendiamo Due piccioni Con una fava E Ho visto Che però In questo modo Siamo riusciti A sbloccare Un bel po' Di interazioni Amichevole Che prima Non avevamo Quindi Siamo effettivamente Riusciti A stabilire Un contatto Parliamo Della temperatura Rovente Sapete Quelle cose Parliamo Del più Del meno Del tempo In modo Da iniziare Comunque A far salire Un po' La nostra Barra verde Ragazzi Ci siamo Riusciti Vediamo Un po' La foto No Abbiamo chiesto Il selfie Prima Continuiamo A chiedere Degli interessi Perché così Facciamo salire Anche la nostra Di fama Lo ralleghiamo Un pochino Cerchiamo Di colpirlo Con qualcosa Di buffo Ah ok Perfetto Adesso sta andando Un po' Male Ci sta Evidentemente Sta trovando La nostra Conversazione Noiosa Potremmo Continuare A discutere Degli interessi Magari Condividiamo Qualche Idea Perché No Uh però Mi sa che noi Dobbiamo andare Alla audizione Giusto? Sì Lei poverina È triste Perché C'è ancora rimasta Amare per questo Abbraccio Non dato Però dai Vale Secondo me Non è tutto Perduto Perché Comunque Siamo riusciti Ad ottenere Un pelino 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 Di relazione Verde E abbiamo Sbloccato Alcune interazioni Amichevoli Quindi secondo me Da questo momento In poi Forse sarà più facile Cercare di Avvicinarlo Quindi per il momento Vale andrà a fare L'audizione Noi torniamo Un attimo Da Giovanni Poi magari In serata Dopo che Valentina Avrà fatto l'audizione Riandremo di nuovo In giro Vediamo se riusciamo A beccare Un'altra volta Torna Con Giovanni Invece A questo punto Approfitterei Per fare Questa cosa Qua Oggi ci è arrivata Praticamente Un'offerta Di lavoro Ciao Giovanni L'associazione sportiva Per la pesca Sta cercando Un testimonial Che l'aiuti A promuovere Nessun pesce Sarà trascurato Una campagna Che illustra I giovani Il virtuoso sport Della pesca Completa Una delle opzioni Seguenti Entro le prossime 24 ore Per onorare Il contratto Quindi Usa la postazione Video Per caricare Il materiale Filmato Che hai raccolto La nostra agenzia pubblicitaria Lo rimonterà Per dare l'impressione Che tu stia pescando E ti invierà Un compenso Per l'uso Della tua immagine Oppure Procurati un drone E regati Al tuo luogo Di pesca abituale Usa il drone Per registrare Qualche sequenza D'azione Autentica Mentre peschi Se caricherai Un video di pesca Il tuo compenso Sarà ancora più Cospigo Direi di fare Quest'ultima Opzione Visto che abbiamo Il drone Ce l'abbiamo In un posto Dove possiamo Pescare Ci filmiamo Mentre ci peschiamo Così Riceviamo Più soldi Riceviamo anche Più fama Che è soprattutto Quello a cui punta Il nostro Giovanni Vediamo se riusciamo A fargli guadagnare Questa benedetta Seconda stellina Per cui direi Andiamo subito Non perdiamo altro tempo Giovanni è venuto Qui a Willow Creek Si è appena Cambiato Così si è messo Il suo look Che usa solitamente Per registrare I video E quindi Veniamo qua E peschiamo Un pochino Facciamo finta Di capirci qualcosa Di pesca Anche se in realtà Non è così Ma ci proviamo Perché Giovanni Vuole assolutamente Riuscire a fare Questo video Quindi direi Iniziamo la registrazione Ok Sta registrando E intanto Peschiamo Un pochino Il nostro caro drone Che ci segue Per benino E poi così Possiamo andare A caricare Il video Per questa agenzia E dovrebbero Arrivarci Soldini E aumentarci Anche un po' Di fama Oh che carino Questo drone Anche se a me piace Un sacco Anche quell'altro Quello a forma Di robottino Che ha la faccina Quindi magari Poi più in là Prenderemo anche Quello Quando Giovanni Sarà un po' Più Esperto E intanto La nostra vale È tornata E ha superato L'audizione Gli urbs Sono i sim Più alla moda Della tv Ti ambienterai subito È trascorso molto tempo Da quando potevamo Consigliarti Su come apparire Originale O alla moda Svolgi subito Gli esercizi preparatori E speriamo Per il meglio Benissimo Qui sta scaricando La batteria Del Del drone Però abbiamo Finito Giusto in tempo Il nostro video Video di pesca Sì d'accordo Va benissimo Così Ok A questo punto Direi che Smettiamo di pescare Ci mettiamo il nostro Done Nell'inventario Prima che Me lo dimentico Qua E andiamo Un attimo a casa Quindi Direi di Trasferire video Alla postazione Così intanto Cominciamo a scaricarlo E invece Con la nostra vale Cioè andiamo In giro Per la seconda parte Della caccia Questa volta però Andiamo in un altro locale Un locale un po' più In ed elegante E speriamo di riuscire A incontrare di nuovo Il nostro caro Torn Però prima Dobbiamo Vestirci Adeguatamente Visto che andiamo In un post elegante Ci mettiamo Un bell'abito Formale Vediamo un po' La nostra vale Che cosa ci riserva In questa occasione Olle Ragazzi Guardate un po' Com'è Super super Fashion Con questo abito Cioè le sta Benissimo E credo proprio Che non passerà Inosservata Intanto qui ci arriva Una notifica La nostra Agenzia Tutti noi Della Rag Desideriamo Farti sapere Che siamo davvero Fieri di te Oh ma grazie Alla recente audizione Te la sei cavata Talmente bene Che abbiamo deciso Di farti recapitare Uno dei miglior Buket di fiori La tua casa Avrà un profumo Dolce come te Oh ragazzi Ma che carina Questa cosa Non mi era mai Capitata Troppo carini Grazie Intanto Mi sono Dimenticata Tra l'altro Di guardare Quando dobbiamo Andare a registrare Sabato Alle nove Ah ok Perfetto Ci abbiamo ancora Un bel po' Di tempo Quindi direi Di andare A fare quello Che abbiamo Programmato Di fare Ovvero Accalappiarci Una celebrità E questa volta Andiamo quindi Allo studio TSP E pare proprio Che la nostra Vale Abbia fatto La scelta giusta Di venire qui Perché Guardate un po' Chi c'è Sì L'abbiamo Rincontrato Il caro Tom Bailey E adesso Direi che Non ci sfuggi più Ma Non è che Magari Possiamo Proprio Creare Un gruppetto Con lui Sì Ragazzi Ottimo Se possiamo Creare il gruppo Non dico che è fatta Ma quasi Perché sicuramente È più semplice Qui intanto Non c'è nessun Buttafuori Quindi direi Di approfittare Della situation Ne venire qua E no ragazzi In realtà Non sono riuscita A creare il gruppo Perché se anche Mi dà la possibilità Di formarlo A lui Non compare L'iconcina del gruppo E non viene con noi Ma va bene Non ci facciamo Scoraggiare Da questa cosa E continuiamo A parlargli Spero che non sia Qui anche la moglie Perché va bene Che A Vale Non importa più di tanto Se è sposato O meno Lei Interessa soltanto Guadagnarci qualcosa Da questa relazione Però insomma Farlo proprio davanti a lei Mi sembra un po' troppo Anche per Valentina Magari lo impariamo Un po' a conoscere Cominciamo a Scoprire qualcosa Dei suoi interessi Notizie sul suo lavoro Se ha qualche Qualche Aneddoto carino Da raccontarci Qualche bel film In programma In realtà abbiamo scoperto Che lui è un tipo Sicuro Perfetto E piano piano Ci facciamo Strada In questa Relazione Per il momento Direi Che Proviamo a richiedere Un abbraccio Vediamo se questa volta Ce lo concede Iniziamo così Con una Relazione Molto tranquilla E amichevole E poi pian piano Ci andremo giù Pesante Buttandoci Quelli Qualcosa Di romantico Chissà Se non riusciamo A farlo Cadere Nella nostra Trappola Ragazzi Complementiamoci In maniera Sincera Così Proprio In maniera Amichevolissima Senza troppe Cose sordide Sotto Abbracciare la celebrità Ok Mi sa che Questa volta Ci ha concesso L'abbraccio Eh sì 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 Vale Stiamo andando Nella giusta direzione Discutiamo ancora Degli interessi La nostra barra verde Sta crescendo Davvero Tanto Guardate Un po' Ottimo Magari potremmo Provare A fare Qualcosina Di romantico Non troppo Così magari Un complimentati Per l'aspetto Ci può stare No Tipo ma Thorn Come sei Come stai bene In questo completo Ti dona davvero Moltissimo Iniziamo con complimenti Di questo tipo E vediamo Cerchiamo un po' Di capire Se lui potrebbe Starci Mi son di sì Sì ragazzi Sì Il nostro turn Pare essere un pochino Vanitosetto Ma ci sta Visto che è una celebrità E direi di Provare a fare Una battutina D'abordaggio Ma proprio una cosa così Buttata lì Quasi per gioco Per gioco Eh eh No 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 Ok Ok Siamo andate Un po' Troppo oltre Dobbiamo cercare Di recuperare Recuperiamo Magari Buttandogli là Una storia buffa No Thorn Per favore Non ci ignorare In questo modo Eh no E se n'è Andato Via Sarà Più difficile Del previsto Credo ragazzi Eh Però La nostra vale Non si fa scoraggiare Oh Aspettate Guardate un po' Chi ho appena visto Entrare A parte Babbo Inverno Che non so che Che ci fa qui È ad un raduno Va bene Giustamente è stale Quindi se ne sta in vacanza Però guardate chi è entrata Lei Octavia Bailey Che è la moglie di Thorn Ed è pure abbastanza Incavolata Che Che avrà visto Che avrà visto qualcosa Ad una stellina Ad una stellina O anche più Superiore Scrivetemelo nei commenti Noi ci vediamo presto Nei prossimi video Ciao